Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Come era apparso chiaro fin dall'inizio, le iscrizioni online al PD Irpino si sono rivelate un maldestro tentativo di avventurieri politici e faccendieri di mettere mani e piedi sul partito. Lo ha spiegato bene ad Irpini a TV il commissario del circolo FOA di Avellino Antonio Gengaro, il quale tuttavia dice di non comprendere il silenzio della deputata Valentina Paris su una vicenda tanto scandalosa. Santa ingenuità, Gengaro è davvero convinto che la Paris ha capito cos'è accaduto? Grazie a tutti.